salve a tutti volevo rassicurare tutti quei miei colleghi che hanno gli incubi da trip advisor state tranquilli che questo incubo finirà molto presto per tre motivi di fondo il primo è l'impossibilità di identificare la persona che ha messo la recensione e quindi non è assolutamente responsabile di quello che scrive se è vero o falso il secondo problema è l capire se la persona è andata effettivamente in quel ristorante a consumare un pasto prima di aver messo la recensione pensate a quello che vi chiede booking dopo che avete prenotato e siete stati nell'albergo vi chiede di mettere una recensione perciò è sicuro che siete stati presso quell'albergo il terzo motivo è che pur presentandosi come una sottospecie di blog e tutti i blog hanno un moderatore il quale è autorizzato a eliminare le informazioni false o quelle offensive in trip advisor non c'è nulla di tutto questo detto questo io chiedo sempre ai miei clienti ma continuate a usare trip advisor certo che lo usiamo ma con le adeguate precauzioni perché è inaffidabile ma allora vi chiedo che cosa ce ne facciamo di un recensore inaffidabile concludendo che cosa possiamo dire trip advisor beh il servizio merita una pallina la cortesia anche perché quelle volte che ho comunicato con londra mi è sempre stato risposto che le recensioni non potevano essere eliminate anche se evidentemente false pertanto il mio giudizio su trip advisor è pessimo